Entra nel vivo il calcio mercato in Serie D. La giornata di campionato di ieri ha dato ulteriore impulso alle trattative. Il Casarano prova a spingere per una nuova punta Nicola Citro e il nome dell'ultima ora. L'ex Bari quest'anno in forza alla Pistoiese era stato sondato anche dal Brinisi che ha poi preferito virare su altri nomi. Sempre il Casarano ha sondato anche Ezechiel Miliglio del Francavilla in Sinni. In uscita Antonio Sepe finito nel mirino del Molfetta che intanto continua a spingere per Demiro Pozzebon. Il club di Mister Bartoli ha superato la concorrenza del Gravina. Sondaggio della Cavese per Strambelli ma senza esito. Il Barletta saluta Ezechiel Zaldua approdato al Manfredonia in eccellenza. Intanto è sempre più vicino l'arrivo di Gianmarco Monaco dal Lavello. Dovrebbe essere il difensore centrale Emanuele Dubaz ex Molfetta, il nuovo rinforzo invece del Matera. Come anticipato dalla nostra redazione, il Nardò insiste per Addae, attualmente al Charlins Muzane. Il centrocampista ex capitano dell'Ascoli tornerebbe nel Girone H così dopo le esperienze con Bitonto e Lavello. Il Brinisi attende notizie da Picerno per Lorenzo Liurni. Il calciatore ha dato l'ok all'offerta dei Biancazzurri ma deve trovare l'accordo con i Lucani per la rescissione. Non si è ancora sbloccata invece la trattativa tra Altamura e Basanisi. Il centrocampista gradirebbe il trasferimento ma la società per ora non lo vuole liberare.